Ben ritrovati con l'informazione di RTC Quarta Rete. Dissequestrata dalla Procura della Repubblica di Salerno la zona in cui è avvenuta la frana lo scorso 20 gennaio e che ha portato all'interruzione del trasporto ferroviario tra i comuni di Vietri sul Mare e Salerno. Vediamo i dettagli nel servizio. Buone notizie per i pendolari della tratta ferroviaria a Nocera Salerno. Infatti, nei giorni scorsi, è stata dissequestrata dalla Procura della Repubblica di Salerno la zona della linea ferroviaria tra i comuni di Vietri sul Mare e Salerno interessata lo scorso 20 gennaio da una frana che ha causato l'interruzione del passaggio dei treni. Ora tocca a Rete Ferroviaria Italiana, la società che è in gestione la linea ferroviaria, di mettere in sicurezza la zona. La società ha infatti 100 giorni di tempo per la realizzazione dell'intervento che consiste nel rendere sicuro il costone della collina franato il 20 gennaio e su cui si trova una vecchia casa diloccata da diversi anni. Un possibile spiraglio di luce, quello della notizia del dissequestro, dopo sei mesi dalla frana per i pendolari. Nel frattempo ha superato nei giorni scorsi le 10.000 firme la petizione online lanciata dai pendolari campani per chiedere il miglioramento della linea storica tra Napoli e Salerno, percorsa quotidianamente da migliaia di persone. L'appello proposto dal gruppo pendolari Linea Storica ha visto il sostegno di tanti viaggiatori campani che ogni giorno scelgono il treno per spostarsi. La petizione è stata formulata in seguito agli innumerevoli disagi vissuti dai pendolari mentre percorrono la linea storica Napoli-Salerno, di cui l'ultimo dei quali, in ordine di tempo, è l'interruzione della tratta tra i comuni di Napoli e San Giovanni Barra e Torre Annunziata Centrale. E tra Torre Annunziata Centrale e Castellammare di Stabbia, a partire dal 4 luglio e fino al 1 settembre. Siamo a Cava dei Tirreni, via libera dell'amministrazione comunale all'intitolazione di via Verdi all'avvocato Domenico Apicella. La proposta però non è stata accolta di buon grado dai familiari. La giunta comunale di Cava dei Tirreni ha dato il via libera all'intitolazione di alcune strade a personaggi che hanno dato lustro alla città metelliana. Tra le proposte della commissione toponomastica approvate dall'aggiunta comunale picca l'intitolazione di via Giuseppe Verdi, comunemente detta Largo Angiporto del Castello, all'avvocato Domenico Apicella. La proposta è arrivata dal componente della commissione toponomastica Franco Bruno Vitolo. L'avvocato Apicella, oltre alla sua attività forense, a Cava dei Tirreni è ricordato anche per la sua attività di giornalista. Per oltre mezzo secolo, infatti, ha diretto lo storico periodico Il Castello, da lui stesso fondato nel 1947. Il condotto ha trasmissioni radiofoniche e televisive molto seguite, come la storica ha pronto chi è su RTC Quarta Rete. Politico di lungo corso, molto attivo per il bene della città, l'avvocato Apicella ha lasciato una grande lezione di vita, un bagaglio di studi da non disperdere, dalla lingua napoletana alla storia cittadina. Eh sì, a dire la verità colmiamo un vuoto, una mancanza. Noi abbiamo il dovere di ricordare i personaggi che hanno dato lustro o comunque hanno rappresentato un riferimento importante per la storia della nostra comunità, della nostra città. Abbiamo il dovere della memoria, perché senza memoria non c'è la consapevolezza del presente e diventa complicato programmare in linea con la tradizione, nell'innovazione, nel cambiamento, la storia futura di questa città. E Don Mimia Apicella è stato un grande personaggio. E il fatto che fino ad oggi, nel 2024, non si era pensato ad uno spazio da dedicare a lui era a mio avviso un fullus che andava coperto. La commissione toponomastica, presieduta da Daniele Fasano, ha fatto un lavoro eccellente da questo punto di vista e sono contento che Don Mimia Apicella avrà uno spazio alla sua memoria e, diciamo, atto doveroso di riconoscimento dei cavesi. La decisione di intitolare all'Avvocato Apicella a Viaverdi, però, non è stata accolta di buon grado dai familiari di Mimia Apicella. Sono totalmente contrario, e gli addetti alla toponomastica lo sanno, alla via dove abitava Zio Mimì, ma non per questo, ripeto, non va bene, è una stradina troppo piccola, Zio Mimì non meritava questo così poco riconoscimento nei suoi confronti. Ripeto, tanto di merito ad altri che hanno avuto intestate strade, piazze, cioè, pamori di, ci sta tutto, ma Zio Mimì non merita che gli venga intitolata una stradina così attualmente insignificante. Farò in modo che alla presentazione dell'intitolazione della strada io sicuro non sarò presente, non farò presenziare mia sorella e quanti altri parenti mi daranno ascolto. Ripeto, solo perché Zio Mimì non meritava questa cosa così effimera, insomma. La giunta comunale inoltre ha approvato le proposte di intitolare il parco urbano di San Pietro alla famiglia genovese. La traversa pedonale che congiunge via De Filippis con via De Fabbia a Cristina Consalvo, vittima di un incidente stradale da appena 27 anni, il piazzale antistante l'ingresso principale dello stadio Simonetta Lamberti a Bruno Mazzotta, capitano della cavese degli anni 50. Ed ora apriamo un'ampia pagina dedicata alla cronaca a un cittadino cavese violento evate dai domiciliari ai quali era stato sottoposto ad inizio luglio, arrestato dalla polizia. Questa volta è stato arrestato dalla polizia di Stato e rinchiuso nel carcere di Forni, evaso dagli arresti domiciliari, misura applicata nei giorni scorsi per il Codice Rosso, nei confronti della propria compagna con minacce, anche di morte, con l'utilizzo di armi e lesioni personali. Gli agenti del commissariato di Cava dei Tirreni, infatti, hanno tratto in arresto un cittadino cavese, colpevole del reato di evasione dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, a cui era sottoposto scaturita nell'ambito di un procedimento penale trattato con la procedura d'urgenza, cosiddetta Codice Rosso, nei confronti dell'ex compagna. In particolare, lo scorso primo luglio, dopo una breve attività info-investigativa, a seguito della denuncia presentata dalla compagna, esasperata da condotte disdicevoli, reiterate da tempo nei suoi confronti dall'uomo, aveva asporto la querela presso il commissariato di Cava dei Tirreni, con segnalazione anche di Codice Rosso. A quanto si sa, la donna non avrebbe sopportato più le angherie del proprio compagno. Tra i comportamenti violenti segnalati, risultano minacce di morte con l'utilizzo di armi e lesioni personali, e il timore era che potesse capitare qualcosa di più grave, anche rispetto agli abusi e ai maltrattamenti. Così la polizia aveva posto in stato di arresto l'uomo, residente a Cava dei Tirreni, e peraltro nella sua abitazione vennero trovati anche un fucile calibro 12, con canna recisa, probabile provento di furto, 12 cartucce del calibro 7,65, 3 cartucce calibro 12, e una scacciacani. Ma tutto col materiale sarebbe stato detenuto in maniera illegale e sequestrato. Dopo aver violato gli arresti domiciliari, l'uomo è stato arrestato. Sequestrato dai carabinieri della Compagnia di Nocere Inferiore, un ingente quantitativo di armi e droga nascosti in un tombino nel comune di Scafati. I carabinieri del reparto territoriale di Nocere Inferiore hanno svolto nei giorni scorsi un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati. Nel corso dell'operazione, che ha visto impiegati un totale di 12 pattuglie e 40 militari, sono stati controllati 110 veicoli e identificate 133 persone, sequestrati 145 grammi di cocaina, una pistola semiautomatica calibro 9 Luger, completa di caricatore con 10 cartucce, 82 cartucce calibro 9, 75 cartucce calibro 357 Magnum, 11 cartucce calibro 38 Special ed un passamontagna, il tutto rinvenuto occultato, all'interno di un tombino sito nel comune di Scafati. Nell'ambito del servizio straordinario di controllo, i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Salerno, unitamente al personale dell'ARPAC, hanno controllato un'officina meccanica, contestando diverse violazioni, in seguito al ritrovamento, all'interno, di due lavoratori regolari, di cui uno dei due, clandestino sul territorio italiano, in quanto privo del permesso di soggiorno. Elevate sanzioni nei confronti del titolare dell'officina, per un importo pari a 30.000 euro. Ai sindaci è vietato portare statue dei santi durante le processioni. Arriva la nota della diocesi Amalfi Cava, dopo le polemiche dei giorni scorsi in costiera amalfitana. L'arcidiocesi di Amalfi Cava dei Tirreni, con una nota dell'ufficio liturgico diocesano, è intervenuta con alcune indicazioni rivolte ai parroci, con l'obiettivo di evitare alcuni abusi che recentemente in diverse zone hanno preso il sopravvento. In pratica, si fa espresso riferimento alle polemiche che hanno caratterizzato alcune processioni in costiera amalfitana in occasione delle solennità dei santi patroni. Infatti, ha sollevato un vespaio di polemiche il caso della statua di Santa Trofimena, portata a spalla dai sindaci della costiera. Cosa analoga, era avvenuta già in occasione della festa di San Giovanni Battista a Vietri sul mare. Nelle nostre feste patronali, le processioni sono espressione dell'intera comunità che, con i suoi ruoli ben delineati, offre la sua amicizia a Dio attraverso i santi. La buona riuscita della processione dipende dalla preparazione, remota e prossima, svolta con il Consiglio Pastorale, il Comitato Festa, la comunità, con gli animatori liturgici ministranti, i servizi volontari e i portatori. Si legge nella nota a firma di Don Giuseppe Milo, direttore dell'ufficio liturgico di Cesano, che si sofferma in particolare sul ruolo dei portatori. Riguardo ai portatori, si legge ancora nella nota, essi siano prevalentemente fedeli che vivono con assiduità la vita della parrocchia e della confraternita, di cui eventualmente si è parte. Pertanto, non conviene confondere i diversi ruoli e servizi che si svolgono nella comunità stessa, per cui bisogna evitare che autorità civili o militari, sacerdoti o religiosi, anche per un breve tratto, portino le statue dei Santi. A Cava dei Tirreni, nella frazione di Sant'Anna, entrano nel vivo i festeggiamenti per la Santa Patrona. È previsto in questi giorni, nella frazione di Sant'Anna a Cava dei Tirreni, il clou dei festeggiamenti solenni in onore della Santa Patrona, per la gioia dei fedeli e dei cittadini. Si è cominciato lo scorso 7 luglio con l'intronizzazione della statua che raffigura Sant'Anna e poi, dopo il programma religioso che ha accompagnato queste ultime due settimane e vedrà celebrarsi domani le sante messe, sarà dato il via ai festeggiamenti civili. Domani sera, a partire dalle 22, si esibiranno gli audio 2 nella piazzetta intitolata Bernardino Lamberti. Sabato si avrà lo spettacolo musicale The Best 90 e domenica pomeriggio, a partire dalle 18, con la collaborazione del Centro Sportivo Italiano Comitato di Cava dei Tirreni, si terranno dei giochi in piazza, sorteggio dei premi, musica e balli. Non mancheranno momenti di degustazione di prodotti tipici ed è immaginabile che ci sarà parecchia gente ad aderire all'iniziativa. Ma sentiamo dagli intervistati come si articoleranno i festeggiamenti civili. Fervono i preparativi, è tutto pronto giustamente, iniziamo con la solenne processione questa sera che percorrerà le strade principali della frazione, via Nielo Vitale e via Pasquale di Domenico. A rientro poi ci sarà la Santa Messa preseduta da Don Mario Masullo, vicario diocesano per la pastorale. proseguirà il programma dei festeggiamenti, in particolare domani, 26 luglio, con la solennità di Sant'Anna. Quindi, oltre al ricco programma religioso, la giornata poi si concluderà con la Messa Solenne preseduta dal vicario generale Don Beniamino d'Arco, alla presenza di autorità civili, militari e religiose. Al termine poi, in seguito al completamento da parte del programma, da parte della banda musicale Città di Cava dei Tirreni, diretta dal professore Vigorito, seguirà il concerto degli Audio 2. Poi sabato, proseguono ancora i festeggiamenti, in particolare, come da programma civile, abbiamo uno spettacolo musicale di primo piano, di tutto rispetto, The Best 90, questi spettacoli degli anni 90 che tanto stanno piacendo e stanno coinvolgendo veramente centinaia, se non migliaia di persone di tutte le fasce di età. Infine, domenica 28 luglio, abbiamo i giochi in piazza in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano, abbiamo il sorteggio dei premi, ci sono i balli in piazza con il maestro Maurizio Decare e poi con il DJ Apicella abbiamo intrattenimento musicale, musica densa, insomma, fino alla mezzanotte per accontentare un po' tutte le varie fasce di età. Sono d'obbligo dei ringraziamenti, ovviamente anche a nome del parroco, padre Domenico Spaduzzi, che salutiamo e ringraziamo innanzitutto per la sua costante presenza nella vita comunitaria e per la sua spiccata sensibilità per la devozione alla Santa Patrona e nel rispetto delle tradizioni della nostra frazione e della nostra comunità. Vogliamo ringraziare certamente tutte le famiglie della comunità di Sant'Anna, tutti gli sponsor, tutti coloro che hanno sostenuto e hanno contribuito per la riuscita di questi festeggiamenti patronali e gli enti, le istituzioni che insomma ci hanno sostenuto. Partiamo dall'amministrazione provinciale, l'amministrazione comunale, il corpo di polizia locale, la protezione civile, le associazioni Mani Amiche, Croce Rossa Italiana, certamente ringraziamo anche per l'attenzione avuta in queste settimane la Metellia Servizi, in particolare il ragioniere Salvatore Adinolfi e tutti i suoi collaboratori. Insomma, grazie a tutti per il sostegno, per il contributo e per aver reesso più bella la nostra frazione, la nostra comunità in questo periodo di festa e di aggregazione. Quest'anno veramente abbiamo scelto un programma che abbiamo coinvolto un po' tutti, tutte le fasce d'età, quindi che dire, vi aspettiamo. Vi aspettiamo numerosi. A Nocere Inferiore, porte aperte alla Caserma Tofano, in attesa della completa di qualificazione. Apre finalmente le porte alla stampa e all'amministrazione comunale di Nocere Inferiore, la caserma Tofano, due anni di pressing del sindaco Paolo De Maio che aveva posto la riqualificazione dell'edificio borbonico risalente al 1758 tra le priorità della sua amministrazione comunale ed una forte sinergia sviluppata fin dai primi momenti con la soprintendenza di Salerno e Avellino, retta da Raffaele Abbonaudo, hanno portato all'incontro di oggi. Proprio la conferenza stampa, nel corso della quale sono state mostrate anche delle foto, come era e come è stato trasformato l'edificio, è stata ospitata in uno dei locali già restaurati dalla soprintendenza che può contare su un finanziamento di quasi 5 milioni di euro dell'allora ministro Dario Franceschini. Già nel 2015 la Direzione Regionale per i Beni Culturali aveva individuato nella caserma di Nocere Inferiore il luogo ideale per la creazione di una raccolta di reperti archeologici della campagna e di tutta la documentazione ad esse inerente. Le porte aperte nell'edificio oggi hanno così consentito di mostrare il progetto che punta secondo l'ipotesi della soprintendenza a farne un hub culturale dove poter ospitare reperti archeologici e dare spazio ai documenti e allo studio di tutte le prestigiose realtà ospitate nel territorio provinciale di Salerno. Dall'esterno non si percepisce il grande lavoro che invece stiamo facendo all'interno è un lavoro non facile perché la caserma è molto grande e quindi sostanzialmente il problema più grande è la messa in sicurezza per poterne consentire un'apertura al pubblico però volevamo far sentire che c'eravamo e che stavamo Precisamente che cosa si sta facendo? Noi abbiamo avuto una serie di finanziamenti ci stiamo preparando ad avviare i lavori e gli incarichi per un grosso finanziamento di quasi 5 milioni di euro con i quali stiamo mettendo come dire in regola tutti i locali prevalentemente ad uso deposito ma anche come archivio e come uffici perché pensavamo che fosse necessario avere una presenza costante sul territorio Volevamo un attimo appurare eventuali ulteriori fondi altrimenti l'amministrazione sarà parte dirigente immaginiamo di coinvolgere l'Università degli Studi di Salerno e coinvolgere altri per finanziamenti per completare i lavori al momento la caserma è individuata come raccolta dei reperti storici archeologici della regione Campania ma non ci sfugge che una volta resa accessibile sarà fruibile ai cittadini Qual è il suo sogno Sindaco? Cosa poter mettere? Vorrei rinviare questo tema perché ne sono tanti è un sogno nel cassetto c'è però vorrei iniziare con renderla fruibile aperta la città e poi l'amministrazione sicuramente farà il suo corso abbiamo anche rappresentato un'esigenza quella dell'abbattimento del muro di cinta per integrarla ancora meglio nel tessuto urbano della città ci sono questioni di sicurezza al momento procederemo sicuramente abbiamo strappato l'impegno alla sovrintendente che ci consentirà sicuramente al momento di realizzare dei murales lungo il muro di cinta con l'impegno che in prosiego noi saremo anche disponibili a realizzare un nuovo impianto di videosorveglianza in modo da consentire l'abbattimento del muro e rendere ancora più integrato questa struttura importante nel centro urbano della città ed ora è il momento di fermarci per una breve pausa linea alla leggia un'impegno Grazie a tutti. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. In serata, sulle coste, alternanza di sole e nubi sparse. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso Entriamo in studio con lo sport calcio, sentiamo le ultime in casa cavese La squadra ha cominciato il ritiro precampionato in Abruzzo Il ritiro precampionato della Cavese a Rivisondoli ha avuto inizio ieri La squadra ha raggiunto la località abruzzese con un gruppo praticamente rinnovato Con pochissimi riconfermati, tra i quali il portiere Boffelli, il terzino Tropea e il centrocampista Conatè E con parecchi volti nuovi, tra i quali il portiere Lamberti, i difensori Saio, Barba, Maffei, Piana e Loreto I centrocampisti Citarella, Aurino e Fornito e gli attaccanti Sorrentino, Di Arrasuba e Baggi Tra gli eroi della scorsa stagione non vedremo più per il momento giocatori come il difensore Magnus Trost Che ha accettato la proposta del Città di Pompei Dove ritroverà Mister Cinelli e anche Matteo Di Piazza L'attaccante, quest'ultimo, che era stato tra i protagonisti della promozione della Cavese in C con 14 gol Davide De Rosa, il difensore di fascia sinistra, ha accettato la Fidelissandria Kevin Magri, lo stopper, è passato alla nuova Scafatese che parte dalla D al pari della punta Ciro Foggia Il fantasista Addessi aveva già scelto la Nocerina, rimanendo in D sotto la guida di Raffaele Novelli Anche Francesco Urso non ha accettato per ora l'offerta della Cavese di rimanere in bianco-blu alle condizioni proposte dal club Quindi, se non si dovesse ricucire, occorrerebbe ingaggiare un sostituto alla pari Per boccare il direttore e lo giudice, occorrerebbero ancora almeno quattro over e puntellare il parco degli under Perché la squadra possa essere completa In entrata, la società Aquilotta ha provato a prendere un regista, Daniele Franco Ma con il giocatore del Turris per ora non se n'è fatto nulla A breve potrebbero essere conclusi dalla Cavese gli ingaggi di un esterno offensivo Pasquale Maranzino E di una punta Gianluca Vigliotti, tutti e due di proprietà del Napoli E si sta lavorando anche per accelerare l'eventuale arrivo di Giuseppe Fella dal Palermo Dall'inizio di questa settimana, dopo l'ufficialità del ritorno di Ciro Loreto Ultimo calciatore in ordine di tempo a essere stato ufficializzato dalla Cavese Il club Aquilotto ha comunicato la nuova composizione dello staff tecnico a disposizione di Mister di Napoli Alessandro Tatomir, da semplice collaboratore, diventa l'allenatore in seconda Esce quindi Francesco Favasuli E i preparatori atletici sono Luigi Mondilla e Pasquale Verolino I quali rilevano il compito che era stato svolto da Giacomo Cofano Riconfermato come preparatore dei portieri Domenico Corcione Mentre come match analyst, al posto di Damiano Valenti, c'è Vincenzo Russo Il quale torna dopo nove anni nella Cavese Cambia anche il medico sociale Dopo l'uscita del dottor Catello di Somma, passato in Serie B E' arrivato il dottor Luigi Trofa Tornato per la terza volta alla Cavese Come dichiarato proprio dal presidente Alessandro Lamberti in conferenza stampa Questa era la nostra ultima notizia Grazie per averci seguito L'informazione di RTC Quarta Rete Vi dà appuntamento alle prossime edizioni Grazie per averci seguito